Nel ricordo dello storico imprenditore Nicola Colavolpe prematuramente scomparso, l'antico e suggestivo borgo di Belmonte Calabro ha ospitato la settima edizione del Festival della Cultura Mediterranea. Migliaia di visitatori nella due giorni di spettacoli, intrattenimenti culturali e stand enogastronomici, lunghe code per salire su una delle cinque navette messe gratuitamente a disposizione dall'organizzazione, affacciato sul litorale tirrenico cosentino, Belmonte è conosciuto nel mondo per la particolare ricettività turistica. La capacità di alcuni giovani imprenditori ha consentito la nascita tra questi vicoli del primo ecoalbergo diffuso della Calabria. Diversi edifici storici abbandonati nel periodo dell'emigrazione sono tornati a vivere per accogliere i turisti. Il Festival è un concentrato di luci e colori, di musica raffinate e di qualità, di mostre artigiane e fotografiche, di sapori buoni. Rappresenta la promozione del paese, rappresenta la vitalità del paese, rappresenta richiamo e soprattutto momento anche di aggregazione da parte di tutti i cittadini. La stagione credo che sta andando abbastanza bene, io sono abbastanza anche contento per il fatto della balneabilità delle acque. Quest'anno, a differenza di anni passati, non abbiamo avuto lamentele da parte dei cittadini, turisti, di quanti hanno avuto volontà di visitare il paese e la nostra spiaggia. Salvatore Bruno per la Cineus24